stamano è stata una mattinata piuttosto favorevole una buona parte dei funghi comunque le ha trovati la bruna questi sono tutti i funghi settembrini la edulissi ce n'erano ancora degli altri ne abbiamo abbiamo fatto un regalo erano un chile due chile tre ancora in più al tutto sono circa tre chili e mezzo